Renato Petra dell'Associazione Amare Montesilvano, come hanno risposto i giovani a questa giornata di sensibilizzazione per la tutela ambientale? Numeri inaspettati abbiamo avuto stamattina, già dalle prime ore appena abbiamo installato la postazione, i primi iscritti, siamo arrivati adesso a 125 iscritti. Credo che nessuna manifestazione di questo tipo abbia avuto mai un riscontro del genere. Naturalmente auspichiamo anche per il futuro di fare sempre meglio, adesso con il sindaco e anche con la McDonald stiamo programmando degli altri interventi per il futuro.